Montague Road James C'era una volta un uomo che abitava vicino a un camposanto. Lettura di Virra Questo, lo sapete, è l'incipit della favola di Folletti e Spiriti che Mamilio, il fanciullo migliore in Shakespeare, veniva raccontando alla regina sua madre e alle dame di corte quando il re irruppe scortato dalle guardie per rinchiuderla in prigione. Il racconto si interrompe. Mamilio sarebbe morto subito dopo, senza aver avuto l'opportunità di terminarlo. Ora, come sarebbe andato a finire? Shakespeare ci giurerei che lo sapeva. E anch'io, oso dire. Non si sarebbe trattato di una novità, ma di una storia che con ogni probabilità avete già sentito e magari anche narrato. C'era una volta un uomo che abitava vicino a un camposanto. La sua era una casa in pietra al piano di sotto e di legno a quello di sopra. Le finestre della facciata davano sulla strada, quelle del retro sul camposanto. Un tempo apparteneva al parroco, se non che, era l'epoca della regina Elisabetta, questi era sposato e aveva bisogno di più spazio. Per di più la sua consorte non gradiva la vista che si aveva a notte del camposanto, dalla finestra della camera da letto. Diceva di vedere… ma lasciamo perdere quello che diceva. Fatto sta che non aveva dato requie al marito, finché questi non aveva consentito a traslocare in una casa più grande nella strada principale del villaggio, mentre la vecchia casa venne affidata a John Poole, un vedovo che ci viveva da solo. Era un uomo anziano che non se la faceva con nessuno e la gente diceva che era un avaraccio. E non sbagliavano di molto, perché era certo un tipo morboso anche sotto altri aspetti. A quei tempi era normale seppellire i morti di notte alla luce delle fiaccole, e così notarono che ogni qualvolta passava un funerale, John Poole era sempre alla finestra, vuoi al pian terreno, vuoi di sopra, secondo quale gli offrisse la migliore visuale. Ed ecco che una notte si dovette seppellire una vecchia. Era abbastanza agiata, ma la gente del posto non l'amava. Di solito si diceva di lei che non fosse cristiana, e che in notti come quella di San Giovanni o di ogni Santi non la trovavi in casa. Aveva gli occhi rossi e faceva paura a guardarla. I mendicanti non bussavano mai alla sua porta. Tuttavia quando morì lasciò una borsa con del denaro alla chiesa. La notte del suo funerale non si alzò tempesta. Fu una notte bella e calma. Ma ci fu qualche difficoltà nel reperire i portatori, sia del corpo che delle fiaccole, nonostante il fatto che avesse lasciato dei compensi più alti del normale per coloro che avrebbero eseguito il compito. Fu sepolta in un panno di lana, senza bara. Nessuno era presente, salvo le persone incaricate delle esequie. E poi John Poole, affacciato alla finestra. Un attimo prima che la fossa venisse ricoperta, il parroco si abbassò e gettò qualcosa sul cadavere. Qualcosa che tintinnava. E disse a bassa voce qualche parola che suonava come «Con te perisco anche il tuo denaro!» Dopodiché si affrettò ad andarsene, seguito da tutti gli altri, lasciando solamente un portafiaccola a illuminare il lavoro di ricopertura del becchino e del suo assistente. Non è che avessero fatto proprio un buon lavoro, e il giorno dopo, domenica, i parrocchiani se la presero parecchio col becchino, lamentando che era la tomba più malmessa del cimitero. E a dire il vero, quando questi tornò a controllarla, gli parvi in condizioni ben peggiori di come l'aveva lasciata. Nel frattempo, John Poole andava in giro con un'aria strana. Da una parte mezza esultante, per così dire, dall'altra mezza inquieta. Passò più di una sera la locanda, cosa del tutto contraria alle sue abitudini, e con chi gli capitava gli scambiava due parole accennando al fatto di essere venuto in possesso di una piccola somma di denaro e di essere a ricerca di una sistemazione migliore. Beh, non mi stupisce mica, disse una sera il fabbro. A me non piacerebbe proprio abitarci. Starei tutta la notte a immaginarmi chissà quali cose. L'oste gli chiese che razza di cose. Che so, magari qualcuno che si intrufola dalla finestra o qualcosa del genere, rispose il fabbro. Tipo la vecchia Wilkins, per dire, che è stata seppellita giusto una settimana fa. Andiamo, dovresti avere un po' di considerazione anche per gli altri, disse l'oste. Non è bello nei confronti di Mastropool, ti pare? A lui che importa? replicò il fabbro. Se non lo sa lui che ce li dà tanto. Dico solo che non fa per me. E che mi dite della campana a morto e delle torce quando c'è un'inumazione e tutte quelle tombe così placide quando non c'è nessuno in giro, anche se si parla delle luci. Voi ne avete mai vedute, Mastropool? No, io non ne ho mai vedute, rispose Mastropool in tono cupo. Ordinò un altro bicchiere e tornò a casa tardi. Quella notte, steso nel suo letto al piano di sopra, con il vento che aveva preso a lamentarsi tutti intorno a casa, non riusciva a prender sonno. Si alzò e andò dall'altra parte della stanza fino ad un armadietto a muro. Ne tirò fuori qualcosa che tintinnava e lo nascose in seno alla camicia da notte. Poi andò alla finestra e guardò nel camposanto. Avete visto mai una vecchia piastra in qualche chiesa con impressa la figura di una persona avvolta in un sudario? Si raccoglie come in un fascio strano sopra il capo. Qualcosa del genere spuntava dalla terra in un punto del camposanto che John Poole conosceva molto bene. Andò a cacciarsi subito nel letto dove rimase immobile. A un certo punto qualcosa urtò sommessamente contro l'intelaiatura della finestra. Rilottante, John Poole portò uno sguardo atterrito in quella direzione. Ahimè, fra lui e la luce lunare si frapponeva la nera sagoma della testa stranamente fasciata. Poi una forma era presente nella stanza. Sul pavimento il risuonare di terra secca. E una bassa voce stridola che dice Dov'è? Mentre dei passi andavano su e giù, passi esitanti, di qualcuno che cammina con difficoltà. Si poteva intravedere a momenti, scrutare negli angoli, chinarsi per guardare sotto le sedie. Alla fine la si udì armeggiare agli sportelli dell'armadietto a muro, spalancandoli. Seguì poi lo stridìo di lunghe unghie sui ripiani vuoti. La figura si girò bruscamente. Rimase un istante ferma accanto al letto. Sollevò le braccia al rauco grido di Ce l'hai tu! A questo punto, sua maestà il principe Mamilio, il quale secondo me l'avrebbe fatta molto meno lunga, lanciando un grido si gettava sulla più giovane delle damigelle presenti, che reagiva a sua volta con un grido altrettanto acuto. Il principe era prontamente trattenuto da sua maestà, la sua altezza regina Ermione, che frenando l'impulso a ridere lo strapazzava e schiaffeggiava con gran severità. Tutto rosso e sul punto ormai di piangere stava per essere mandato dritto a letto, se non che, per intercessione della sua stessa vittima, che si era ripresa dallo spavento, gli fu infine permesso di restare e ritirarsi all'ora solita. Ma a quel punto anche lui si era ripreso, tanto che, nell'augurare la buona notte alla compagnia, si vantò di conoscere un'altra storia, come minimo tre volte più agghiacciante, che avrebbe raccontato alla prima occasione che gli fosse capitata. Grazie per la visione!